La stazione dei Carabinieri di Nocera Superiore si è insediata aglieri nella nuova sede in via Petrosino, recentemente realizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cuofano nell'area dell'ex mattatoio adiacente all'area mercatale. L'attività di controllo del territorio ma interrottasi durante il periodo di ripiegamento della stazione dovuto alla temporanea indisponibilità di sedi continuerà ad essere assicurata dal personale della stessa stazione da militari in uniforme in abiti civili del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I Carabinieri fanno sapere che gli uffici saranno aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 22 con risposta al citofono assicurata nelle restanti ore nelle quali tutte le esigenze urgenti saranno comunque soddisfatte. In alternativa è possibile contattare il 112 per le chiamate di emergenza oppure la rete fissa della stazione al numero 081 93 10 65. Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco Cuofano che ha lavorato in sinergia con l'arma per l'individuazione della nuova sede. Sì era un risultato atteso già da tempo abbiamo anche tramite la vostra emittente condiviso con la nostra cittadinanza i passi amministrativi tecnici che facevamo per giungere al risultato finale perché spesso nel silenzio degli uffici delle attività che siamo tenuti a fare con riservatezza non si riesce a comprendere la mole di lavoro che c'è e invece oggi simbolicamente attraverso la consegna della nuova stazione dei carabinieri perché finalmente la città lo ricordiamo ha una sua stazione dei carabinieri e soprattutto il presidio di legalità che rischiava di essere smantellato e non aversi più oggi è di nuovo presente nella comunità e nella città di Nocella Superiore. Quindi per noi un grande traguardo. Una caserma dedicata ad un eroe, Fortunato Arena. Una caserma dedicata sicuramente per le valutazioni fatte anche dall'arma a Fortunato Arena. Senza dimenticare il suo amico. Sì sì senza dimenticare Pezzuto anzi siamo proprio in concomitanza con i 30 anni da quel triste episodio che consumò, si consumò Ponte Cagnano Faiano e che noi ogni anno rinnoviamo nella memoria dei nostri cittadini sia della comunità di Ponte Cagnano che di Nocella Superiore. Quale miglior momento per ricordare la memoria di un caduto sul campo o quale Fortunato Arena intitolando una stazione dei carabinieri. Non manca poi in questo momento di alto onoreficenza degli eroi anche un momento che purtroppo Ponte Cagnano